ben ritrovati amici ma quanto è figa l'ambientazione vichinga e nel gioco di oggi potremo esplorare questo oceano del nord a bordo delle nostre navi di cartone alimentate a ciambelle quasi come se fossimo degli omer simpson sons dei clan del nord cercheremo di arrivare alla vittoria giocando a carby vediamo la bella scatola oissa eccola qui leggiamola un po 2 4 giocatori allora in 4 è tutta un'altra esperienza è molto più complesso padroneggiare il gioco 2 3 comunque si gioca tranquillamente 12 più l'età se giocata in 2 3 altrimenti 14 più tranquillamente 120 minuti di durata ideato da torjeir tiong e portato in italiano dalla devir che ringrazio per avermi fornito la scatolona protagonista del video di oggi in questo gioco dovremmo cercare di andare avanti con i nostri turni selezionando le azioni e pagandole a mezzo di uno o due dadi in nostro possesso i quali ci permetteranno appunto di scegliere l'azione nel turno ci permetteranno anche di fare tante cose come intercalari nel nostro turno però il tutto per arrivare in fondo alla partita cercando di vincerla a mezzo punti si tratta di fatto di un gioco di selezione azioni e gestione risorse e loro conversione in varie cose secondo comunque gli aspetti del gioco dove la personalizzazione del nostro clan e comunque della nostra area personale la farà da padrona potrebbe quasi sembrare un gestionale all'italiana anche se comunque ha delle differenze che lo rendono molto peculiare la spiegazione quindi che partirà tra poco i suoi aspetti ce l'ha quindi non sarà cortissima ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso per cui vediamo come funziona distendiamo sul tavolo il tabellone di gioco sul lato giusto in base al numero di partecipanti questo è quello per quattro giocatori dall'altro lato per due tre giocatori su ognuno di questi spazi andranno impilate queste tesserine andranno divise a seconda del colore e del simbolo che troviamo in basso su ogni tesserina e su ogni spazio e comunque ci dirà sempre quale pila poterci mettere sempre a base simboli andranno piazzate tante tesserine pari al numero di giocatori al tavolo quindi sempre facendo l'esempio dell'apparecchiatura per quattro giocatori andranno quattro tessere in ogni pila agli angoli in alto destro sinistro del tabellone dovremo impilare quattro rune viola su ciascuno di quegli spazi a fianco del tabellone dovremo creare le riserve delle carte il mazzo giallo andrà mischiato sistemato lì e dovranno essere scoperte le prime tre carte il mazzo giallo è quello delle carte bonus i mazzi blu dei potenziamenti saranno invece tre ci sarà quello della nave dei guerrieri e delle birre ogni mazzo sarà composto da due metà di mazzi ovvero della stessa icona saranno presenti carte con un 2 che andranno sul fondo del mazzo mischiate separatamente carte con l'uno che andranno mischiate separatamente di nuovo e messe in cima a quelle di livello 2 in modo che durante la partita le carte che arriveranno nella seconda metà saranno leggermente più performanti di quelle che si troveranno all'inizio dovremo poi assemblare il tabellone delle azioni questo che vi ho indicato è la parte fissa quest'altri invece sono dei pezzi da mettere a incastro e sul regolamento ci sarebbe scritto che per le prime partite andranno piazzate le tessere con il lato base però vi consiglio di utilizzare il lato veterano già dalla prima partita darà molto più pepe esattamente in questo spazio dovremo impilare tre tesserine se staremo giocando in quattro giocatori due tesserine per due tre giocatori anche in questo caso vi consiglio da subito le tessere lato veterano ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere la sua plancia personale e poi tre avamposti e tre torri di cui uno per andrà subito in riserva disponibile gli altri due esattamente in questi spazi avremo anche un meeple segnapunti che partirà dallo zero del tracciato che contorna il tabellone consiglio personale i meeple normalmente li terremo in piedi però siccome sono belli massicci e gli spazi sui quali poterli piazzare non sono così grandi e sarà frequentissimo avere dei pari meriti in punti almeno all'inizio vi consiglio di utilizzarli stesi così da impilarli come se fossero dei dischetti segnapunti non dei meeple ad ognuno verranno poi distribuite randomicamente delle migliorie due per di poppa vela e prua e tre rune io le ho messe impilate almeno per quanto riguarda le migliorie della nave perché quello che mi interessa spiegarvi nel setup sono le rune che ho messo distese però le potete mettere a piacimento in modo che siano sempre visibili in ogni caso avrete sempre piena visibilità di tutte le vostre tessere poi ad ogni giocatore verrà data una carta del setup personale ci sarà un lato per quattro giocatori e un lato per due tre giocatori ogni giocatore prenderà possesso di tutto quello che è riportato qui sulla carta e quindi metterà da parte le risorse di gioco eventuali guerrieri li piazzerà negli spazi proposti qui sulla nave per esempio questo è un guerriero di forza 2 eventuali carte blu le prenderà in mano pescandole dai mazzi appropriati ci sarà poi anche la risorsa ciambella che sarà la provvista di gioco che andrà sistemata lì sul mozzo centrale della nostra nave quello che mi preme sottolineare non è tanto la presa delle risorse che è banale quanto la sistemazione del nostro dado ogni giocatore sulla sua carta avrà anche una sua posizione numerica esattamente un valore da dare al proprio dado da piazzare lì in quello spazio per esempio saremo qui secondi con il dado che mostra il 4 e ci piazzeremo in quel modo apro giusto una parentesi per l'apparecchiatura a due tre giocatori in quel caso i giocatori giocheranno con due dadi a testa non solo uno e quindi questi dadi andranno piazzati esattamente in questi valori e la cifra che ci riporta qui la nostra posizione sarà una cifra presa da sinistra e da destra quindi se fossimo in una partita a due tre giocatori e avessimo comunque la carta col 2 come in questo caso il primo dado andrà piazzato nella seconda casella da sinistra il secondo dado nella seconda casella da destra siccome in questo gioco non è necessario identificare un primo giocatore saremo già pronti per iniziare una partita a questo gioco si articola in un numero prestabilito di round 4 in 4 giocatori 3 in 2 3 giocatori ogni round sarà composto da un numero variabile di turni dei giocatori prima di partire con la spiegazione del turno faccio una doverosa premessa le regole di questo gioco sono suddividibili in tre macro gruppi per la spiegazione uno è la selezione delle azioni che faremo su questa plancia un altro è il gruppo delle azioni gratuite nel turno che avranno una parte preponderante all'interno della spiegazione che partirà tra poco e l'altra è la semplice spiegazione delle azioni selezionabili quindi parto spiegandovi come si può selezionare la nostra azione nel turno intanto non si partirà da un primo giocatore magari in senso orario ma girà sempre il giocatore proprietario del dado più indietro rispetto a tutti gli altri l'avanzo indietro in questo gioco è sempre in relazione esattamente alla prima casella di questo gruppo rialzato quindi se i dati dei nostri avversari fossero tutti più avanti rispetto al nostro toccherebbe a noi se ci fosse un dado qui su questa casella gialla toccherebbe al giocatore proprietario di quel dado durante la selezione della nostra azione quindi potremo spostare in avanti in senso orario il dado di quanti spazi vogliamo considerando che comunque se andremo molto avanti rispetto alla sua posizione attuale magari dovremo aspettare parecchio prima di rigiocare l'unica eccezione è che se il dado si trova qui nella zona iniziale dovrà per forza uscire come vedete sulle caselle sono presenti delle cifre che saranno il costo per effettuare quell'azione il costo sarà in birre ovvero in pallini del nostro dado quindi se ci piazzeremo su uno spazio che ha un costo di 1 ci piazzeremo lì e faremo calare di 1 il valore del dado svolgendo poi la nostra azione selezionata e quindi potremo andare tranquillamente selezionando le nostre azioni fin tanto che avremo birre da spendere per effettuare quell'azione come vedete stesse azioni su questa ruota delle azioni avranno costi diversi non appena un giocatore finirà le birre o comunque sarà un po' basso di birre potrà anche fare delle azioni che avranno costo zero che serviranno più che altro per ricaricarci di birre però lo vediamo tra poco e quindi per fare un primo riassunto della selezione azioni giocherà sempre il giocatore proprietario del dado più indietro di questa ruota delle azioni e potrà andare avanti di quante caselle desidera pur arrivando su una casella libera quindi senza dadi avversari o propri se siamo in 2-3 giocatori arrivati su quella casella dovremo calare il valore del nostro dado di tanti pallini o birre pari al costo dell'azione stessa se non possiamo permetterci quello spazio azione semplicemente dovremo sceglierne un altro prima di spiegarvi tutto l'elenco delle azioni che potremo incontrare qui sulla ruota delle azioni apro la parentesi delle azioni gratuite del turno queste sono importanti perché avranno un ruolo fondamentale nell'arco della partita partiamo dalla prima che è l'unica tra tutte quelle che vi spiegherò che potremo intraprendere solo una volta nel turno e questo sarà lo spostamento della nostra nave spostare la nave si intende percorrere un numero al nostro piacimento di passi lungo le rotte e ognuno di questi pallini sarà un passo e fermarci in un punto nel quale svolgere qualcosa per ogni passo che muoveremo dovremo pagare una ciambella prelevata dalla nostra nave quindi per esempio fare questo primo spostamento ci costerà una ciambella che toglieremo dal pennone della nostra nave una volta che arriveremo su uno spazio di costruzione che sia come questo degli avamposti o come questo delle torri se lì non avremo ancora costruito quel tipo di oggetto lo potremo costruire in quel momento la costruzione sarà sempre gratuita purché abbiamo in riserva il pezzo che serve per essere piazzato sul tabellone gli spazi di costruzione andranno riempiti da sinistra a destra e i primi che arriveranno riceveranno immediatamente più punti rispetto a chi arriverà più avanti nella partita ovviamente tutte le volte che prenderemo punti li segneremo subito facendo avanzare il nostro meeple se invece ci fermeremo su uno spazio dove è presente una piletta di tessere prenderemo la piletta intera e guardando sull'altro lato sceglieremo la tessera da prendere per noi e potremo rimettere le altre coperte dove le abbiamo pescate le tesserine pescate andranno piazzate accanto alla nostra plancia ogni giocatore potrà pescare solo una volta da ogni pilettina e per evitare di prendere doppioni basterà guardare il simbolino che troviamo in basso sia sul fronte che sul retro della tesserina stessa e la stessa cosa anche per le tessere rosse militari quindi in soldoni potremo spostarci di quanti passi vogliamo pur avendo ciambelle da scartare una per ogni passo che compieremo e dove ci fermeremo faremo quello che lo spazio ci permette di fare costruzione o pesca di una tesserina gioco forza questo tabellone fatto in modo in maniera che ogni giocatore avrà qualcosa da fare in ogni spazio solo una volta partita al netto però della casella iniziale tutte le altre saranno ad uso esclusivo di una singola nave laddove arrivassimo su uno spazio dove fosse presente la nave di un avversario laddove la nostra forza militare quindi la somma dei valori di tutti i nostri guerrieri fosse più alta di quella dell'avversario arriveremo su quello spazio e sposteremo di un passo la nave dell'avversario laddove invece l'avversario avesse pari o più forza militare rispetto a noi potremo comunque spostarlo ma dovremo pagare una ciambella in più alla riserva ricordatevi quindi che lo spostamento lo possiamo fare nel nostro turno ma lo potremo fare solo una volta quindi ci spostiamo di quanti passi vogliamo ciambelle permettendo però svolgiamo l'attività solo dello spazio su cui approdiamo da qui in avanti invece delle prossime azioni gratuite potremo farne quante ne vogliamo un'altra cosa che potremo fare sarà quella di giocare carte potenziamento blu ci sarà un costo da sostenere in alto per le risorse di gioco per ottenere quello che c'è nel corpo della carta a seconda della tipologia della carta avremo bonus su vari ambiti per esempio il militare avrà a che fare appunto col militare la nave con la nave la birra con il nostro dado se sullo spazio della carta ci sarà un quadratone grosso tutta la carta sarà beneficio unico se ci saranno più quadrati il giocatore dovrà scegliere quale ottemperare in ogni caso le carte utilizzate andranno piazzate coperte a fianco della nostra plancia potrebbero concorrere negli obiettivi di fine partita e a proposito di obiettivi di fine partita questi saranno rappresentati dalle rune i giocatori durante il setup ne riceveranno tre e una di queste la potranno subito piazzare su uno di questi tre spazi della propria plancia gratuitamente così che possano già avere un obiettivo prestabilito di fine partita un obiettivo però personale un'altra azione gratuita che potremo fare sarà quella di scartare due carte potenziamento blu per ricevere una risorsa oro ricordatevi quando le carte le giochiamo le mettiamo davanti a noi coperte nella nostra area personale se le scartiamo per convertirle in oro andranno piazzate sotto ai relativi mazzi e l'oro mi permette di spiegare le ultime due azioni gratuite la prima è la conversione di un oro in una qualsiasi delle altre due risorse base di gioco pelli o argento la seconda è quella della conversione di un oro in una ciambella per la navigazione o una birra per effettuare le azioni col dado quindi riepiloghiamo le azioni gratuite spostamento su mappa della nave con la spesa delle ciambelle il giocare le carte potenziamento blu lo scartare due carte blu per ricevere un oro e poi la conversione di un oro in una qualsiasi altra risorsa base e la conversione di un oro in una ciambella o una birra le azioni gratuite le potremo effettuare in qualsiasi momento del turno e quindi vediamo adesso alle tipologie di azioni che potremo trovare qui intorno alla ruota delle azioni ogni azione come vedete è associata a un colore quindi ve li raggrupperò a seconda del colore partiamo dal grigio che saranno le azioni che ci permetteranno di ricevere delle risorse ogni spazio ci dirà quali tipologie di risorse prendere e quale quantità e semplicemente le aggiungeremo alla nostra riserva tra le risorse in questo gioco sono annoverati anche i guerrieri prenderemo esattamente il guerriero con quella forza e lo aggiungeremo alla nostra dotazione ogni giocatore avrà un limite massimo di cinque guerrieri in qualsiasi momento attenzione su una cosa in questo gioco sono presenti anche delle opportunità per aumentare la forza militare di un guerriero quindi se dobbiamo prendere un nuovo guerriero come per esempio a mezzo di questi spazi prenderemo un guerriero in più se dovremo potenziare un guerriero lo sostituiremo uno di quelli già in nostro possesso con uno del valore appropriato l'azione blu è quella del potenziamento avremo la possibilità di scegliere tra tre cose da poter fare potremo o pescare una qualsiasi carta dalla cima di uno dei mazzi a scelta del giocatore oppure potremo potenziare la nostra nave oppure potremo sbloccare un altro obiettivo quindi piazzare un'altra runa sulla nostra plancia quindi le carte blu le pescheremo con l'azione blu ma le giocheremo come azione gratuita vediamo quindi i potenziamenti a mezzo tessere intanto ognuna di queste tessere avrà una banda blu che ci darà un requisito che avrà a che fare con carte giocate pezzi piazzati sul tabellone forza militare eccetera eccetera avremo poi anche un costo sempre in risorse base da dover spendere si partirà dalle due risorse per la poppa alle cinque risorse per la runa quando vorremo sbloccare uno di questi potenziamenti sceglieremo liberamente quello che ci interessa pur avendo il requisito soddisfatto nella banda blu e il costo sostenuto con le risorse scartate e lo piazzeremo sullo spazio preposto per quanto riguarda i potenziamenti delle navi questi daranno delle abilità passive al giocatore da qui in avanti per quanto riguarda invece le rune daranno come dicevo prima degli obiettivi personali di fine partita inoltre i potenziamenti della nave daranno subito al giocatore l'ammontare di punti che andremo coprendo con la nuova tesserina ognuno di questi spazi comunque ad uso finito della tesserina che ci piazziamo sopra quindi laddove volessimo sostituire questa tessera potremmo farlo tranquillamente avendo il requisito blu e il costo delle risorse di nuovo pagato però non prenderemo nuovamente i punti è chiaro che solo le tesserine in quel momento visibili saranno quelle attive per il giocatore quindi per quanto riguarda i potenziamenti delle navi potremmo fare una sovrascrittura per ognuna delle tre tipologie per quanto riguarda invece le rune andremo sovrascrivendo a quelle che c'erano l'azione verde è quella delle provviste ogni volta faremo questa azione riceveremo sempre esattamente una risorsa base quindi una pelle o un argento più il potenziamento di uno di un nostro guerriero poi per ogni avamposto che avremo costruito sul tabellone riceveremo una risorsa base in più per ogni torre che avremo costruito sul tabellone avremo un potenziamento di soldato in più quindi questa è un'azione che all'inizio della partita sarà abbastanza scarsina verso la fine darà una pancalata di benefici l'azione gialla è quella del commercio che mi permette di soddisfare quindi di mandare a compimento una tesserina gialla che avrò pescato spostandomi sul tabellone ogni tesserina gialla avrà in alto la quantità e qualità di risorse da scartare per soddisfare questa tessera poi ci darà delle volte dei punti secchi che aggiungeremo al nostro totale e poi ci permetterà di pescare delle carte bonus gialle le carte bonus ci daranno subito un grosso boost per quanto riguarda i benefici istantanei che ci daranno come altre risorse potenziamenti di soldati eccetera eccetera ogni qual volta pescheremo una carta gialla la pescheremo sempre tra quelle scoperte poi anche queste le metteremo coperte di fronte a noi anche queste potrebbero concorrere per quanto riguarda gli obiettivi la tesserina gialla soddisfatta la metteremo coperta partendo da sinistra su questa scala gialla laddove arrivassimo a pestare un uomo a un posto lo toglieremo dalla plancettina per poter essere costruito successivamente l'azione rossa è quella militare funziona più o meno allo stesso modo dovremo soddisfare una tesserina rossa pescata precedentemente le tessere militari avranno in alto la forza militare che dovremo almeno eguagliare per soddisfare questa tessera e poi sotto ci saranno i vari benefici tra cui di nuovo i punti delle risorse benefici da prendere però anche le ferite che sono una cosa un po particolare ferire un guerriero significa prenderne uno a nostra scelta e girarlo sull'altro lato un guerriero su fondo rosso sarà ferito ma comunque contribuirà per intero al suo valore militare laddove un guerriero ferito fosse ferito nuovamente morirà e quindi dovremo scartare la relativa tessera scartando però il guerriero riceveremo il suo valore militare in punti perché nell'ambientazione di gioco va a finire nel valala e quindi nella gloria eterna anche le tesserine rosse andranno piazzate partendo da sinistra nella scala rossa in questo caso e di nuovo se pesteremo una torre con il piazzamento la metteremo in riserva per essere costruita successivamente le azioni marroni saranno le azioni di ricarico ci permetteranno di ricaricare la birra sul nostro dado o le ciambelle sulla nostra nave di base quando faremo queste azioni ricaricheremo sempre due unità o di birra o di ciambelle però a seconda di quante tesserine del tipo appropriato avremo soddisfatto fino a quel momento potremo aumentare questo valore infatti le tessere gialle ci permetteranno piazzandole di aggiungere sempre più birre con questa azione mentre le tessere rosse ci permetteranno di aggiungere più ciambelle con l'azione di refill delle ciambelle quindi riempire queste due metà della nostra plancia ci permetteranno di incrementare questo tipo di ricarico ognuna per il suo ambito quindi il commercio per le birre il militare per le ciambelle quindi per gli spostamenti su mappa e per chiudere con le azioni mi ricollego sempre a questi tracciati perché sono gli unici che hanno due asterischi la seconda casella di ogni tracciato che comunque sarà attivabile con la seconda tessera soddisfatta mi sblocca l'azione con il lucchetto normalmente non mi potrò mai fermare sull'azione con lucchetto se però avrò sbloccato l'azione del lucchetto o gialla o rossa o tutte e due quando mi fermerò con il dado potrò effettuare con lucchetto o l'azione gialla o l'azione rossa quella che ho sbloccato o se le ho sbloccate tutte e due potrò scegliere liberamente l'ultima cosa da vedere su questi tracciati è che il quarto spazio di ogni tracciato è rappresentato da una mappa come icona arrivare su quello spazio e basta solo su uno dei due tracciati mi permette di avere accesso agli angoli in alto a destra della mappa centrale quelli appunto con la mappa come icona lassù potremo trovare la tessera militare più forte e la tessera commercio più onerosa ma al tempo stesso potrò costruire una torre o un avamposto in quegli spazi oltre che essere gli spazi che daranno più punti per queste costruzioni una volta che andremo costruendo su quegli spazi prenderemo anche la pila delle rune lì presenti e saranno delle rune particolari infatti queste non appena le prenderemo ci daranno subito un bonus istantaneo riportato nella metà superiore e anche un obiettivo di fine nuovo da aggiungere agli altri a differenza di quelle che abbiamo sopra la nostra plancia queste una volta che le prendiamo le piazzeremo subito tra quelle in attivo per il fine partita e quindi ricapitoliamo il turno agirà sempre il giocatore proprietario del dado più indietro rispetto alla prima casella della zona rialzata il giocatore potrà far fare al dado quanti passi vuole in senso orario oppure arrivando su una casella libera da altri dadi e dovrà pagare il costo della casella stessa decurtandolo dal valore di birra del dado nel mentre che fa il suo turno potrà effettuare le azioni gratuite tra cui lo spostamento su mappa al costo di ciambelle il giocare carte potenziamento blu lo scartare due carte potenziamento blu per prendere un oro il convertire un oro in risorse base o un oro in birra o ciambelle le azioni che potrà selezionare potranno essere quelle grigie di raccolta risorse la blu di pompamento quindi pesco carta blu o attivo piazzandola una tesserina per migliorare la mia nave o una runa per avere un altro obiettivo di fine la verde che mi permetterà sia di prendere delle risorse che anche di migliorare il mio esercito la gialla di soddisfare tesserine gialle precedentemente pescate la rossa stessa cosa con le tesserine rosse le marroni per rifillare le birre o le ciambelle e quindi i giocatori andranno avanti spostando il dado e facendo i loro turni fintanto che tutti riapproderanno nella zona iniziale non appena i dadi di tutti i giocatori saranno tornati sulla tesserina iniziale il round avrà fine si scarterà la tesserina su cui si trovano i dadi in questo momento e verranno ripiazzati mantenendo l'ordine relativo e si ripartirà sempre dal giocatore proprietario del dado più indietro si andrà avanti a giocare in questo modo per quattro round in una partita a quattro giocatori tre round in due tre giocatori ma vi ricordo che in due tre giocatori ognuno giocherà con due dadi comunque vada l'ultimo round della partita sarà quello nel quale non saranno più presenti delle tesserine in quello spazio ma giocheremo direttamente a contatto col tabellone non appena tutti i dadi dei giocatori saranno tornati nella zona iniziale andremo al conteggio finale dei punti a quelli già guadagnati nella partita e già segnati aggiungeremo i punti derivanti dagli obiettivi di fine di ogni giocatore quindi dalle rune in proprio possesso sulla plancia più punti pari al valore totale militare del nostro esercito più le tesserine gialle ci daranno punti pari al loro quadrato quindi se ne avremo una uno per uno un punto se ne avremo tre tre per tre nove punti e così via riceveremo poi un punto per ogni birra avanzata sul nostro dado un punto ogni due ciambelle avanzate sulla nostra nave un punto ogni oro residuo ogni due carte blu residuo in mano un punto ogni due risorse base residue vince chi fa più punti in caso di pari merito vincerà tra gli spareggianti il giocatore proprietario del dado nella posizione più arretrata ed eccoci qua di ritorno partiamo come sempre dai materiali il gioco è completamente privo di elementi in plastica quindi quando l'ho aperto a parte il cielo fan fuori dentro era tutto dentro a bustine di carta che poi ho buttato perché all'interno della scatola sono presenti delle micro scatoline che aiutano a tenere i componenti separati ma ordinati tra loro abbiamo tutti gli elementi in cartone fatti veramente bene le miniature di cartone delle nostre navi che sono veramente carine poi bellino che c'è il pennone dove metterci le ciambelle quindi comunque una volta apparecchiato all'aspetto da german puro e puro però è quello che è e quindi va bene così per quanto riguarda le meccaniche avete visto che sulla carta sono comunque estremamente semplici giocherà sempre il giocatore proprietario del dado più indietro sul tracciato circolare delle azioni potremo selezionare la nostra azione mandando avanti quel dado di quanti passi vogliamo però dovremo avere abbastanza birre per pagare lo spazio e poi potremo fare le nostre azioni che saranno raccolta risorse saranno la miglioria con l'azione blu la raccolta massiva dei risorse potenziamento esercito dell'azione verde il commercio azione gialla la battaglia azione blu o il ricarico di birre o ciambelle con l'azione marrone come intercalari potremo avere anche le azioni gratuite quali la navigazione il giocare carte blu di potenziamento e la conversione delle carte in oro e loro in altre cose si va avanti così per quattro macro turni o tre in due tre giocatori alla fine dei quali chi fa più punti vince dunque il gioco non inserisce niente di nuovo nel panorama ludico perché attinge comunque da altri classici vuoi la selezione delle azioni con la ruota circolare e con il giocatore che parla che è sempre quello più indietro rispetto agli altri vuoi anche movimento su mappa con uso esclusivo delle caselle o comunque un sistema per allontanare gli altri vuoi il potenziamento la gestione delle carte quindi comunque è una ricetta basata su elementi già ben conosciuti però sono assemblati molto bene insieme perché comunque non avremo solo da selezionare la nostra azione col dado ma la dovremo anche pagare e quello è un aspetto che mi è piaciuto veramente veramente tanto perché soprattutto in quattro giocatori il gioco è estremamente stretto perché avremo un solo dado da amministrare e vi dico che ci saranno solo tre caselle nell'arco comunque del cerchio intero per ricaricare le birre poi lo potremo anche fare attraverso le carte potenziamento blu quelle relative appunto alle birre che avranno a che fare con il nostro dado però ecco la pianificazione sarà importantissima perché sarà tranquillamente all'ordine del giorno dover mandare un dado troppo in avanti per doverlo ricaricare o perché siamo a secco o perché abbiamo paura che gli altri giocatori che parlano prima o dopo di noi a seconda comunque della situazione andranno a prenotarsi per le birre e quindi comunque la pianificazione la fa d'obbligo anche il ricaricare comunque le ciambelle sarà importante perché ci permetterà di viaggiare sul tabellone e il tabellone è un aspetto estremamente importante nel gioco qui le azioni gratuite sono quasi più importanti rispetto a quelle che potremo selezionare perché spostarsi sul tabellone ci apparecchierà la strada per performare meglio le azioni che potremo scegliere con il nostro dado in due tre giocatori avendo tutti due date a testa secondo me si perde un po la strettezza di questo gioco e anche la lunga pianificazione perché comunque ci basta un dado in buona posizione con tante birre sopra per non avere problemi di strettezza ecco quindi secondo me in due tre va benissimo per giocatori di minore esperienza in quattro secondo me dà il suo meglio per giocatori molto esperti che dovranno veramente carificare tanto o anche fare delle scelte sofferte per gestire il proprio turno dovremo comunque cercare di settorializzarci non tanto negli elementi di gioco perché bene o male tutti faremo tutto ma soprattutto per quanto riguarda i potenziamenti della nostra nave che ci permetteranno di avere delle abilità passive uniche per noi ma anche le rune che ci daranno i nostri obiettivi di fine anche quelli personali e quindi comunque un gioco che potrebbe sembrare come dicevo all'inizio un gestionale all'italiana per setup randomico in realtà non è un gioco di questa tipologia vuoi perché comunque l'autore è sicuramente nordico ma soprattutto perché in tutte le partite in quattro giocatori si utilizzeranno tutti gli elementi di gioco e nonostante questo è un gioco estremamente longevo perché comunque già i connotati delle abilità che il giocatore potrà sbloccare per sé faranno avere una sensazione diversa partita dopo partita e quindi comunque mi sento di consigliare tranquillamente questo gioco a tutti i giocatori esperti che vogliono qualcosa di estremamente longevo ma non per questo di randomico per quanto riguarda il setup quindi è un po' all'antitesi del gestionale all'italiana i giocatori di media esperienza potranno tranquillamente provare questo gioco soprattutto in due tre giocatori che permette questa conformazione di essere un pochino più larghi nella situazione giocatori inesperti state assolutamente fermi è presente anche nella scatola qualche variante per quanto riguarda il la plancia delle azioni ma io vi consiglio di giocare da subito con le parti in veterano quindi comunque con le azioni messe in modo un pochino più bastardo vi consiglio da subito anche di non utilizzare le varianti di gioco perché comunque rendono un po' troppo faraginoso la gestione del tutto secondo me con la conformazione che vi ho spiegato è l'ideale plancia veterano però regole semplici semplici per modo di dire e quindi in conclusione è un gioco che mi ha convinto veramente tanto apparecchiato fa la sua porca figura giocato ne fa ancora una migliore è arrivato in fondo al conteggio dei punti ci saranno comunque degli aspetti che daranno qualche punto in più rispetto agli altri ma comunque è un gioco che è anche abbastanza bilanciato per quanto riguarda il suo prezzo carvi viene nuovo intorno ai 60 euro è considerato il contenuto della scatola è un prezzo onestissimo usato non l'ho visto granché perché comunque è uscito da pochissimo ma credo che intorno a 40 euro scarsi ci si potrà stare e se avete le caratteristiche che ho detto prima non fatevelo scappare e siamo arrivati alla fine anche di questo video lasciatemi un like se vi è piaciuto anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate in descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi il link al sito della devir che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video i siti dei miei partner ovvero wild di sol cose magliette ecologiche ls giochi coi giochi e i miei codici sconto il canale gioco nauta per recuperare tutte le mie live del mercoledì e il sito di guiga quindi non faccio noi vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti vi anticipo il prossimo lo girò su post office e se non siete iscritti cliccate qui sul pop up e attivate la campanella noi ci vediamo al prossimo video ciao